Avola, 54 anni e domiciliari, i carabinieri arrestano l'uomo per ripetute evasioni. I carabinieri del nucleo dei mobili di noto della stazione di Avola hanno arrestato un 54 anni in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccioletto elettronico per aggravamento della predetta misura associandola alla casa circondareale di Siracusa. L'uomo, sebbene agli arresti domiciliari non curanti del dispositivo elettronico, ha in più circostanze violato la misura venendo arrestato e ricondotto presso la sua abitazione. Il Tribunale di Siracusa, informato dai carabinieri delle citate violazioni, ha pertanto disposto la misura più afflittiva da scontare in carcere.